Perché una madre può arrivare all'infanticidio, al figlicidio? In questa situazione di cronaca, diciamo, recente, ci si pone, ci si può porre questa domanda perché può accadere una cosa del genere? Beh, intanto diciamo che non sempre si può trovare una risposta logica ai comportamenti che ovviamente di logico non hanno nulla, perché le cause possono essere la pazzia, possono essere la cattiveria, l'essere umano ha anche queste situazioni qua, oppure utilizzare il figlio come uno strumento per vendicarsi di altre situazioni. D'altra parte l'essere umano, dobbiamo tenere presente, è in grado di fare gesti di un altruismo sfrenato ma anche gesti di cattiveria sfrenata e anche atti di autolesionismo perché di fatto le persone che si suicidano fanno un atto, cioè uccidono la persona tra virgolette a cui dovrebbero tenere di più che è se stessi e dopo se stessi o anche talvolta a pari merito o talvolta anche di più c'è il figlio quindi potremmo dire che potrebbe essere una sorta di, come dire, suicidio, simil suicidio. Le motivazioni possono essere tante ma la cosa interessante è che questi comportamenti non sono soltanto umani, cioè la crudeltà verso i figli non è soltanto un fattore umano. Ad esempio i panda, le madri dei panda, se quando danno alla luce più di un figlio beh uno lo prenderanno e lo alleveranno ma l'altro lo lasceranno al suo destino quindi alla morte, probabilmente perché forse non sono in grado di allevarne due ma comunque è un qualcosa di aberrante se ci pensiamo bene. Ma lo stesso discorso avviene ad esempio in altre, diciamo, in altre specie animali come nelle aquile. Le aquile ad esempio, siccome ci sono diversi figli, diversi aquilotti che fanno una lotta fratricida e i genitori non battono ciglio se l'aquilotto più grande uccide quello più piccolo. Ma lo stesso discorso vale per i conigli che dedicano pochissimo tempo ad esempio a nutrire i figli e poi entro 25 giorni devono arrangiarsi da solo o che se è visto se è visto. Quindi viviamo in un mondo che non è un paradiso, speriamo di non farlo diventare un inferno, per